Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di CrumTV, pioggia di multe per i cremonesi nei primi sei mesi dell'anno tra gennaio e giugno del 2017 si è raggiunta infatti la non indifferente quota di 1.733.278 euro per lo più a carico delle famiglie. Pioggia di multe per i cremonesi nei primi sei mesi dell'anno tra accertamenti sui verbali notificati in materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada e per i regolamenti comunali tra gennaio e giugno del 2017 si è raggiunta infatti la non indifferente quota di 1.733.278 euro. La maggior parte di queste multe sono per i vieti di soste, per le soste in area a pagamento a discorario oltre il limite di tempo consentito, ma una buona quota riguarda anche il superamento dei limiti di velocità. Rispetto allo scorso anno, peraltro, risultano all'attivo 100.000 euro in più di multe che per l'80% sono a carico di famiglie, percentuali risori invece per quanto riguarda le imprese. Aggressione sui treni, l'organizzazione dei sindacati di base dei ferrovieri ammonisce punire chi ha simulato ma mantenere rigorosamente l'attenzione alta il servizio. Con un tempestivo comunicato, l'organizzazione dei sindacati autonomi di base dei ferrovieri ha preso le distanze da quella che definiscono una macabra messa in scena, che però non deve cancellare mille reali drammatiche aggressioni, l'ultima in ordine temporale ieri, giovedì. E se ora i sindacati chiedono che la giustizia faccia il suo corso per punire il capotreno simulatore, non con meno forza insiste perché l'attenzione resti alta sulla sicurezza dei treni. Nessuno si legge nel comunicato può permettersi di utilizzare questa situazione per minimizzare le difficoltà e i rischi con cui si trovano giornalmente ad operare migliaia di ferrovieri, pendolari e lavoratori. Il percorso intrapreso con l'istituzione deve con forza ora più che mai continuare, perché, aggiungiamo, al danno già grave non si unisca anche la beffa. Troppi negozi chiusi in centro storico e la rigenerazione urbana? Sentiamo. I due canonici passi in centro possono essere abbastanza angoscianti ad uno sguardo attento. Cartelli di affitto, tanti troppi, in pieno centro storico, serrande abbassate, un effetto desolante. L'alleria del corso sembra silent hill in assoluto uno dei tratti peggiori anche per i tentativi commerciali, diversi andate a vuoto nel giro di pochi mesi e a questa situazione che non migliore, anzi tende a peggiorare con domande che prima o poi ci si dovrà porre per darsi finalmente risposte costruttive, si contrappone il tentativo della rigenerazione urbana. E allora ecco la collocazione di una nuova fioriera tra Corso Campi e Garibaldi, uno degli interventi che l'amministrazione comunale sta valutando per rendere più bello il centro storico. Le vitrofanie sulle vetrine dei negozi sfitti in modo da renderle più attraenti. Davanti alla casa dei Stradivari per esempio ne è stata posta una dedicata al Genovesino, un progetto che avrà un seguito su altre vetrine ma che chiaramente non può essere considerato più che un pagliativo. Siamo alle notizie dall'Italia, non sopportava la fine della relazione con la sua ragazza, per questo ieri intorno a mezzanotte un 21enne di Senigallia ha coltellato la sua ex, un amico di questa, entrambi coetanei dell'aggressore e si è lanciato nel vuoto. Il giovane è morto sul colpo, l'altro è ancora ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita mentre la ragazza è stata dimessa dopo le cure. È accaduto in un condominio di quattro piani in via Podestia appena fuori dal centro storico, ridosso della Stata Adriatica dove la giovane vive con i genitori. Il 21enne dopo un litigio con la ex fidanzata e dopo aver aggredito lei e l'amico con un coltello è salito sulla terrazza condominiale e si è lasciato cadere nel vuoto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Anche gli italiani possono essere ibernati tramite la Crioras, la società russa che unica in Europa offre l'ibernazione. A dare questo servizio in Italia al momento è Filippo Polistena, titolare di un'agenzia funebre a Mirandola, a Modena. La crionica, ovvero l'ibernazione del corpo dopo il decesso, è un servizio relativamente costoso che negli Stati Uniti è realtà da tempo, mentre in Europa è possibile appunto solo grazie alla Crioras. Tenendo presente che ci deve essere l'autorizzazione della persona in questione, ha spiegato Polistena, la soluzione ideale resta comunque quella di raggiungere la Russia prima del decesso e poi morire in Russia ed affidarsi direttamente agli scienziati della Crioras. Altrimenti se il decesso avviene in Italia la burocrazia è più complessa. Dall'inizio dell'anno comunque 16 persone lo hanno contattato e 3 hanno firmato il contratto. Siamo alle notizie dal mondo. Barcellona, treno si schianta sulla banchina, almeno 54 i feriti. L'incidente è avvenuto alle 7.15 alla stazione di Francia. Il mezzo che arrivava da Tarragona non è riuscito a rallentare. 5 dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Il voto contrario di tre senatori repubblicani, tra i quali John McCain, ha determinato la bocciatura al Senato del disegno di legge cosiddetto smizzo per una revoca parziale dell'Obamacare, affossando così il tentativo estremo dei repubblicani di revocare e sostituire la riforma della sanità voluta da Barack Obama. Siamo allo sport. Marco Cusin è ufficialmente un nuovo giocatore della 7 Milano, il 32enne centro. Lo scorso anno d'Avellino è attualmente impegnato con la nazionale e ha sottoscritto un contratto biennale. Cusin, vincito le due volte della Supercoppa italiana, è stato acquistato dalle A7 per completare il reparto lunghi. È uno scherzo? È pazzia. Non ha senso. Non hanno i soldi. Sono sconvolto dal UEFA. Il presidente della Roma, James Pallotta, commenta con stupore il mercato del Milan, che con i circa 200 milioni di euro spesi finora è il più esoso dell'estate. Il consorzio cinese, che ha rilevato il club rossonero, secondo quanto riportato dalla P, è stato acquisito grazie al sostegno del fondazionario statunitense Elliot, il cui CEO, Paul Singer, spiega Pallotta, è un mio amico e arriverà a possedere il club, perché i cinesi hanno un debito. Questa per noi era l'ultima notizia. Io vi ricordo che per il weekend ci saranno le good news. Il TG invece tornerà come sempre lunedì alle 20. A tutti voi un buon fine settimana. Arrivederci.